Sono Carla Conca, presidente di SIEC, System Integration Experience Community, l'associazione italiana che riunisce tutti gli operatori del mercato audio-video professionale e controlli. Siamo qui a Milano, al centro Milano Congressi, dal 21 al 22 novembre per due giorni della System Integration, un evento dove tutti gli operatori di canale si ritrovano, si riuniscono e possono discutere di tutte le novità del mercato. La grande novità che presenta l'associazione è la formalizzazione della nuova prassi di riferimento per il settore, che è stata pubblicata proprio questa mattina, 21 novembre, sul sito di Uni, è una prassi che indica un percorso di qualità per le aziende del settore. Ci sono anche degli interventi tecnici sui sulle innovazioni del mercato e comunque questo vuole essere anche un momento di incontro per tutti gli operatori, quindi non soltanto per i produttori, ma anche per i distributori, gli integratori, dove possiamo scambiare esperienze comuni, parlare delle innovazioni, di quello che bisogna fare, anche perché questo è un mercato estremamente tecnologico, molto innovativo, è un mercato di nicchia, ma in realtà ha a che fare con un mondo che è a disposizione di tutti, perché i sistemi integrati si trovano ovunque, anche se spesso le persone non sanno di utilizzarle, come ad esempio negli aeroporti, nei cinema, nei grandi spazi pubblici, negli ospedali ad esempio. In un periodo in cui è difficile stare sul mercato, noi vogliamo mostrare un segno positivo di una serie di aziende che crede nel sistema italiano, crede nelle aziende che li operano e che sono in grado di portare dei fattori di qualità e di eccellenza.